Io vi presento, sono Valentina Simonetti, sono HR Manager di People & Culture in Eudata, che è un'azienda nell'ambito informatico, chiaramente, visto che siamo soci del gruppo Asintel. Volevo ringraziare Asintel per la possibilità di affrontare questo argomento quale io tengo molto in quanto membro del gruppo Formazione HR e devo dire che appena è stato proposto ho avuto da parte loro subito il via libera per poter parlare e condividere con voi di questo argomento. Il focus che avremo oggi sul corporate well-being per i puristi dell'italiano chiameremo benessere organizzativo, so che a volte ci sono questo tipo di querelle sull'utilizzo dei termini in inglese, di fatto è il benessere aziendale che vedremo poi durante il webinar ci servirà non solo per attrarre i talenti ma proprio per migliorare anche la retention e quindi il mantenere i nostri talenti a bordo, le nostre persone, le nostre risorse a bordo e poter migliorare quella che è la qualità della vita e il benessere vero e proprio all'interno dell'azienda. Ma partiamo dalla definizione di corporate well-being. Il corporate well-being di fatto è la capacità di un'organizzazione di promuovere e mantenere il più alto grado di benessere fisico, psicologico e sociale dei lavoratori in ogni tipo di occupazione. Questa perlomeno è la definizione che dà il professor Francesco Vallone che già negli anni duemila eh inizia a fare delle riflessioni in un ambito internazionale quindi non solo italiano eh inizia a definire il costrutto di benessere organizzativo che è un costrutto che fa parte della psicologia del lavoro, delle organizzazioni e delle risorse umane eh e che appunto affonda poi le sue radici sulle esperienze internazionali ma anche di tante altre discipline. Le organizzazioni quindi noi le aziende oltre a produrre beni e o servizi a seconda di quello che è il nostro settore andiamo a produrre degli effetti sui nostri dipendenti sulle nostre risorse. Qual è la nostra preoccupazione quindi quale deve essere la nostra preoccupazione? La salute dei nostri lavoratori come benessere fisico, psicologico e sociale quindi un benessere a trecentosessanta gradi che dipende di fatto dal contesto lavorativo generale e dalla salute dell'organizzazione alla quale i nostri dipendenti affartengono. Perché quindi dovremmo scegliere di attuare una strategia di well being? Per aumentare la produttività delle persone perché immagino nelle vostre aziende anche si sarà sentito e risentito non siamo delle onus, siamo delle aziende, facciamo business ed è vero ma possiamo decidere di fare business fatturato, utili, chiamiamolo come vogliamo, in un modo o farlo comunque aumentando il benessere delle persone che quindi diventeranno più produttive. Cosa ci aiuta a fare? Portare in casa una strategia di well being? Branding? Ci aiuta a fare branding interno ed esterno e a diventare un best place to work. Il branding fa sì che ci sia un posizionamento da parte dell'azienda sul mercato tale per cui le persone vogliono venire a lavorare da noi e quindi crescere come struttura e rientriamo poi nel mito della talent attraction per l'appunto retention come dicevamo all'inizio quindi riuscire a tenere a far restare i propri dipendenti e raggiungere la resilienza organizzativa quindi quella capacità da parte delle aziende che nonostante i cambiamenti in questi ultimi anni abbiamo visto siamo partiti dalla pandemia che era qualcosa che era imprevedibile che nessuno di noi avrebbe potuto neanche lontanamente immaginare le guerre, l'inflazione in questo momento il mondo che ci troviamo a vivere è un mondo di fatto che cambia costantemente per cui quello che dobbiamo fare è avere un mindset ma lo vedremo dopo che sia flessibile tale per cui riusciamo poi effettivamente a rispondere nella maniera più opportuna a quelli che sono i vari cambiamenti. Parliamo quindi di salute organizzativa ovvero l'insieme di fattori culturali e di processo grazie ai quali un'organizzazione quindi la nostra organizzazione possibilmente sia in grado di promuovere mantenere e migliorare questo famoso benessere fisico psicologico e sociale dei nostri dipendenti e quindi un impegno che non solo va a garantire un benessere economico ma parla appunto di un benessere a trecentosessanta gradi dei dipendenti. La salute così come la va a definire l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità non è solo un'assenza di infermità e patologie in un individuo quindi per essere sano come organizzazione non basta non avere delle problematiche ma la salute è una condizione di benessere mentale e sociale. Il rapporto tra lavoratore e salute organizzativa quindi è in perfetta sinergia. Se la salute organizzativa ed il benessere sono carenti i possibili rischi ai quali andiamo incontro come azienda sono stress, burnout, assenze ripetute, turnover e il peggioramento quindi della performance del dipendente. Vedete che tutto è inversamente proporzionale quindi metto in pratica la strategia o esattamente gli effetti contrari di quelli che otterrei nel momento in cui ho una salute organizzativa pessima o comunque non positiva. Andiamo quindi come risultato a compromettere la produttività aziendale nel momento in cui non ci poniamo il problema di pensare al benessere delle nostre persone. Giustamente a questo punto tutto bellissimo abbiamo messo in mezzo professori acclarati tutto quello che volete ma se devo pensare al mio come faccio a capire se la mia organizzazione è in salute? Allora intanto dobbiamo porci la domanda se l'ambiente che noi stiamo offrendo ai nostri dipendenti è un ambiente confortevole. Un'altra domanda che possiamo parci per fare un piccolo check. Riusciamo a comunicare gli obiettivi professionali in maniera chiara? Perché anche questo vedremo poi più avanti fa sì che ci sia una sicurezza psicologica che fa sì che le persone stiano meglio all'interno dell'azienda avendo un percorso chiaro e condiviso. Parliamo del career well being per esempio. Andiamo ad assecondare le caratteristiche e le potenzialità degli individui? Andiamo a dire loro bravi quando sono bravi? Riusciamo a pensare alle persone come persone e non come risorse? Perché anche qui poi ci vuole un salto mentale non indifferente per riuscire a eh governare poi anche tutto quello che sono questi messaggi. Le ascoltiamo attivamente sia le proposte eventualmente quindi creando un engagement con loro eh facendoli sentire parte sul serio di quella che è la nostra organizzazione. Andiamo ad ascoltare le loro difficoltà per aiutarli non per penalizzarli. Li andiamo a informare su quello che cambia all'interno su quelle che sono le strategie magari ad alto livello. Preveniamo le conflittualità interne tutti noi in azienda abbiamo volente o nolente e non è necessariamente negativo avere delle conflittualità ma devono essere comunque gestite se non sono sane. E di fatto la domanda alla base è abbiamo creato creiamo un ambiente dove ci sia comunicazione e collaborazione perché questi sono appunto i presupposti per far sì che la nostra organizzazione sia una organizzazione lavorativa in salute che ci può usare tutti i benefici di cui abbiamo parlato. Possiamo parlare anche poi del raggiungimento degli obiettivi quindi supportare i dipendenti al raggiungimento degli obiettivi, mostrare l'equità nel trattamento retributivo e meritocrazia. Questo è un tema per esempio che nel momento in cui le risorse, le persone all'interno della nostra organizzazione ne discutono può creare all'azienda non pochi problemi. Ridurre i livelli di stress, simulare il senso di appartenenza alla squadra, far sì che la sentano come una loro missione, che si sentano davvero parte di quello che l'azienda sta creando e che sentano il loro lavoro come utile al fine dell'azienda. Prevenire, ridurre i rischi professionali, chiaramente assegnare obiettivi sostenibili perché altrimenti diventa una presa in giro ed essere in sintonia chiaramente anche con le innovazioni tecnologiche e culturali. Se pensiamo all'innovazione culturale sicuramente lo smart working è un qualcosa alla quale senza l'acceleratore della pandemia avremmo dovuto aspettare molto e che invece fortunatamente, ma anche dello smart working parleremo a breve, è un qualcosa che se usato correttamente e lo vedremo, è un qualcosa che aiuta il benessere organizzativo. Magari tanti di voi mi diranno, poi spero che me lo direte insomma quello che fate anche voi, cosa state facendo, comunque se state riflettendo su questi temi. Magari mi diranno, ah ma io ho fatto il welfare in azienda e quindi sono a posto, ho fatto l'asilo nido interno per esempio, ho fatto il corso di mindfulness, il corso di yoga, bene basta, siamo sani come organizzazione. Allora se intendiamo il welfare in questo modo, in realtà noi andiamo con queste attività delle quali vi ho fatto degli esempi a favorire quella che è l'organizzazione nel quotidiano, ma non andiamo a migliorare il clima aziendale, soprattutto se questo clima aziendale è compromesso. Il concetto di benessere organizzativo, di corporate well-being è spesso associato al concetto di felicità, inteso come star bene, il benessere, è uno stato della mente, quindi un modo positivo di vivere il lavoro e la relazione nel contesto in cui si svolge. Capite bene che se ci basiamo su questo assunto non può abbastare il corso di yoga, che sicuramente è un'attività che può essere apprezzata se il pubblico al quale mi rivolgo apprezza questo tipo di attività, ma se io ho un'azienda dove magari ho un'età media molto alta e qui torna per esempio il tema del del age management, affronteremo anche questo, magari non gli interessa il corso di yoga, magari provando a chiedere alle persone avremmo scoperto che erano molto più interessate a fare qualcos'altro. Quindi anche su questo non partiamo dalla presunzione di sapere cosa le nostre persone vogliono o di cosa hanno bisogno. Andare a renderle parte del processo significa appunto chiedere loro che cosa ne pensano ed è così che riusciamo con un atteggiamento che è bottom up a capire e a offrire e a instaurare un benessere organizzativo, un corporate webbing. Il focus deve essere quindi non solo sulle azioni ma ancora prima sulla cultura aziendale ed organizzativa delle nostre aziende prima di implementare i servizi da offrire, il welfare che diventa poi di fatto un pagliativo ma non garantisce quello che è il benessere che invece è il nostro focus ultimo. Il welfare tra l'altro è in realtà un complemento della retribuzione quindi se il clima aziendale rimane negativo e non c'è fiducia quindi non c'è questo patto di fiducia tra le nostre persone e l'azienda, i benefit di fatto diventano dei cerotti psicologici quindi cosiddetta pezza a colori che viene messa che tampona il problema ma non aiuta le persone a superare il malessere, a stare bene. Quindi andiamo un po' più nel concreto. Vi riporto qui una ricerca del su corporate webbing in Italia del duemilaventidue fatta da Radicale Char con un po' di numeri e questa ricerca ha fatto per la prima volta in Italia una fotografia della situazione. Quindi cosa stanno facendo le aziende eh in Italia in questo momento? Quelle che sono le strategie che noi possiamo andare ad implementare in ottica di webbing sono sicuramente lo smart working, il mental e fisica webbing, il talent management e l'age management che abbiamo nominato eh poco fa, il career wellbing, financial wellbing, community e social wellbing. Quindi come vedete abbiamo tante carte da giocare e adesso pian piano andremo a capire ognuna di queste quale parte guarda del benessere della persona per poi capire anche quello che magari più si confa, più aderisce a quella che è la nostra realtà, la nostra struttura per poterla eventualmente applicare. Molto spesso quello che accade nell'azienda è che manca la consapevolezza di queste strategie. Quindi io posso anche pormi il problema di voler far qualcosa per le mie persone ma non so quali possano essere le strategie da mettere in campo per sostenere questo benessere organizzativo. Eh molto spesso in maniera anche frettolosa probabilmente ehm ci riduciamo a pensare che dare una maggiore flessibilità o la possibilità di fare smart walking risolve il problema. No, probabilmente no. Per quanto riguarda la ricerca appunto in Italia duemilaventidue eh a breve uscirà la ricerca sul duemilaventitré per vedere come sono cambiate la maggior parte delle delle aziende di fatto si sono rivolte al mental e physical well being. Il ventisette virgola cinque per cento invece ha messo in atto delle azioni sul career well being molto meno invece per quanto riguarda il financial, il community ed il social. Resta da dire però che il sedici virgola tre per cento delle aziende che hanno partecipato ed erano circa trecento aziende se non sbaglio in questo studio non ha fatto assolutamente nulla. Quindi non ha fatto nulla nell'ambito mental e physical, career, financial, community, social, nulla. Il quarantotto virgola nove per cento delle imprese eh non ha messo in campo azioni sufficienti quindi a qualcosa ha pensato ma queste azioni che ha messo in campo non sono state sufficienti. Un quarto delle imprese ha intrapreso azioni consistenti invece nell'ambito del career well being e il ventisette virgola quattro per cento invece ne ha attivato una quantità che possiamo definire sufficiente. Un un po' polar opinion sullo smart working. Lo smart working non è adatto ad ogni persona. Eh vi faccio un esempio sulla mia realtà sulla mia azienda. Noi abbiamo un'età media di trentanove anni. Questa è la nostra età media. Abbiamo però delle persone sui cinquant'anni mh cinquanta 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 cinque anni che di fatto sono in sede cinque quattro cinque volte al giorno. Sì Franco assolutamente sarà possibile avere la documentazione verrà mandata poi via mail la registrazione che le slide quindi eh grazie anche per averci dato un feedback sull'interesse. Dicevo ci sono delle persone vi faccio il mio esempio in azienda che hanno bisogno di stare in ufficio perché magari hanno case piccole perché magari hanno figli per tanti motivi. Se io avessi proposto di fatto una eh politica di smart working totalmente in in remoto cosa che tecnicamente non potrei neanche neanche fare perché sarebbe assimilabile al al telelavoro non so quanto sarei riuscita ad accontentare quella fetta della mia azienda. Per dirvi quello che ho fatto io è duemila ventuno fino a duemila ventuno abbiamo fatto una survey chiedendo alle persone secondo loro qual era il giusto balance tra l'ufficio e lo smart working. Di fatto da questa survey è venuto fuori che eh più della metà delle persone erano fra l'una volta a settimana due volte a settimana per cui quella che è stata la nostra policy è quattro volte al mese per chi è in regione Lombardia quindi rimane il concetto di flessibilità ma ognuno lo applica rispetto a quelli che sono i propri impegni per cui non c'è l'obbligo di venire il martedì in ufficio una volta a settimana per intenderci quattro volte al mese perché fuori regione Lombardia perché abbiamo le dipendenti che non sono eh assunti in regione la richiesta è di quattro volte l'anno di presenza in sede dopodiché gli uffici sono sempre aperti quindi se io Valentina ho per mia esigenza per mia voglia per mia comodità andare cinque su cinque in ufficio io posso farlo e questo fatto sì che ogni persona poi andasse di fatto a eh mettere come dire ehm appunto una propria strategia dello smart working fermo restando l'indicazione generale eh dell'azienda ecco perché vi dico eh si parla tanto di smart working ma non è adatto ad ogni individuo in realtà vi direi anche non è adatto a qualsiasi realtà penso magari al nell'ambito della produzione non posso aspettarmi che un operaio o nell'ambito del commercio si lavori da casa chiaramente non è applicabile a tutti i tipi di realtà va programmato e cucito quindi come un vestito diventa tailor made affinché possa funzionare perché se io faccio una strategia ma poi non ha senso per le mie persone in realtà sto facendo più danno che bene non sto secondando le loro esigenze e non sto valorizzando quindi le potenzialità di uno strumento come lo smart working quindi cosa deve fare il lavoro smart sicuramente incarnare la libertà di individuare il luogo e le modalità di lavoro più adatti perché è anche vero che noi abbiamo messo a disposizione dei dipendenti per esempio lo strumento della deroga quindi se è vero che io devo presenziare in ufficio quattro volte al mese posso senza abusarne perché poi ho visto anche questo in azienda senza abusare chiedere una deroga e quindi tra virgolette il permesso senza doverlo giustificare di non fare la presenza stabilità dei quattro giorni in quel mese questo è un qualcosa che noi abbiamo pensato per esempio nel periodo di natale nel periodo eh estivo in modo tale da permettere anche la possibilità di lavorare in altri luoghi dove probabilmente saranno più rilassati più felici più produttivi chiaramente per fare questo il patto alla base deve essere di fiducia tra il dipendente e l'azienda perché altrimenti se io non mi fido delle mie persone difficilmente darò tra virgolette tutta questa libertà anche le modalità di lavoro devono essere pensate per far sì che poi le persone riescano a raggiungere i loro obiettivi cosa vuol dire noi per esempio diamo flessibilità anche in ingresso e in uscita quindi si può iniziare a lavorare tra le otto e trenta alle nove e trenta il che vuol dire che poi finisco prima o dopo e questo mi crea flessibilità soprattutto magari se è una famiglia il rischio dello smart working utilizzato in maniera molto impattante è che il lavoratore di fatto si senta solo abbandonato al suo destino quindi ok vai tu sei autonomo sei quello che devi fare quindi buon per te per cui anche lì è importante offrire tramite tutti gli strumenti di lavoro la possibilità di avere una rete quindi sì ognuno di noi lavora da casa ma c'è la chat alla quale puoi chiedere aiuto puoi chiedere la call fissiamo delle call andiamo quindi a sostenere la persona anche se distanti ma soprattutto andiamo a sostenere una cultura una cultura della disconnessione una cosa che ho vissuto io sulla mia pelle poi mi piacerebbe sentire anche voi durante il lockdown i vari lockdown in realtà soprattutto io vivevo in un monolocale io non riuscivo a staccare mai quindi avevo il pc in cucina dove lavoravo dove mangiavo dove prendevo il caffè e non riuscivo mai a chiudere il pc quindi era mangiavo arrivava la mail rispondevo arrivava la chat rispondevo eh vabbè mi porto avanti con il lavoro e si tirava lunghi fino alle sette le sette e mezza alle otto non è sana non è sano perché poi c'è vi parlo del mio caso il senso di colpa nel non essere reperibile questo fa sì che ci sia una cultura non sana e di fatto siccome questo è un qualcosa che io ho visto nella mia azienda noi quest'anno abbiamo fatto un corso sullo smart working considerate otto ore di direzione in tutto circa un'ora a settimana dove l'obiettivo era far prendere consapevolezza alle risorse di quelle che sono le best practice le buone maniere quindi eh anche il come chiedere eh l'informazione al collega visto che siamo spesso e volentieri in smart e soprattutto l'obiettivo è stato quello di creare un manifesto fatto dai ragazzi che poi diventasse procedura aziendale questo per appunto avere più consapevolezza evitare rispetto a chi avesse questo vizio lo metto tra virgolette lasciatemi passare il termine educare e far sì che tutti poi non si sentissero in colpa lavorassero meglio e più sereni nel momento in cui sono arrivate le diciotto le diciotto e dieci le diciotto e quindici e non c'è risposta alla mia mail magari posso inviare la mail posponendo e facendola arrivare alle nove per esempio piuttosto che scriverla in pausa pranzo piuttosto che scriverla eh fuori orario di di lavoro come vi dicevo alla base di tutto questo ci devono essere comunque collaborazione fiducia e responsabilità la cultura del controllo e della presenza fisica devono essere sostituite inevitabilmente dal valore della fiducia e da i numeri che le persone poi portano quindi una volta che io do fiducia e vedo che le persone continuano a lavorare probabilmente mi accorgerò che lavorano anche meglio da casa mi auguro è auspicabile che quella che la cultura del controllo e della presenza fisica venga meno proprio a fronte di quelli che sono i risultati raggiunti dalle persone per quanto riguarda eh in mental e physical well being la parola d'ordine quindi e qui ci colleghiamo allo smart working e la flessibilità il 71,3 per cento riprendo lo studio sul well being di radical HR delle aziende utilizzano la politica di orari flessibili per i dipendenti quasi un terzo delle aziende offre anche abbonamenti a palestre o piscine quindi siamo nell'ambito del physical well being trenta due per cento quindi altrettante offrono il supporto psicologico noi per esempio sul supporto psicologico ci abbiamo pensato ne ho parlato anche in azienda con alcuni dipendenti eh stiamo cercando di legarlo a quello che è il welfare aziendale quindi metterlo all'interno del welfare in modo tale da poter utilizzarlo eh con il proprio credito qualora fossero interessati a questo tipo di di servizio di supporto. Altri esempi possono essere per esempio la fisioterapia delle visite mediche i nutrizionisti e l'alimentazione quindi nell'ambito del mental e fisica well being siamo nel trecentosessanta gradi del benessere fisico e mentale quindi sport un supporto psicologico ma anche proprio dal punto di vista medico del benessere della persona. Per quanto riguarda il talent management quindi la gestione dei talenti qui siamo nell'ambito dei pilastri del well being quindi parliamo di people caring che sottosta al passaggio scusate da una visione tradizionale del dipendente a quella di individuo e per individuo intendo persona. Per chi come me si occupa di risorse umane quindi la strada da intraprendere o anche per chi in azienda non è HR ma di fatto mette in atto delle strategie il ruolo e la strada che dobbiamo intraprendere è quella di fatto del del caregiver della persona che si prende pura. Vi riporto un'indagine del 2022 sempre che è stato un anno molto intenso da questo punto di vista dell'Harvard Business Review ed è un'indagine che si è basata su 1500 dipendenti di vari settori in realtà quindi non siamo solo nell'ambito dell'ICT in 46 paesi quindi un campione abbastanza ampio e il 98 per cento degli intervistati su queste 1500 persone di fatto definivano la loro vita lavorativa peggiorata. Questo è un qualcosa del quale noi dobbiamo tener conto. Il benessere per gli intervistanti era diminuito dell'85 per cento. Questo è un qualcosa di cui dobbiamo tener conto. L'impegno lavorativo per i motivi di come vi parlavo prima è aumentato del 65 per cento. Quindi cosa succede? Che noi di fatto dobbiamo andare ad ascoltare quelli che sono i bisogni delle persone perché le persone non solo sono nostri dipendenti non solo lavorano con e per noi ma sono delle persone che hanno tutto un bagaglio personale tale per cui la loro vita privata pesa inevitabilmente su quella lavorativa perché non si può scindere la Valentina direttore del personale dalla Valentina privata chiamiamola così che sta a casa. Luna va nella sfera opposta. vi riporto ancora altri studi per farvi capire come la vita lavorativa può poi intaccare anche quella personale. Uno studio del National Bureau of Economic Research. Parliamo di uno studio su più di tre milioni di persone. Il tempo in riunione aumentato del tredici per cento. Quindi cosa succede? Io passo il mio tempo al lavoro in riunioni non voglio dire nella maggior parte dei casi inutili ma se sono aumentate qualcosa magari non sta funzionando ho meno tempo per fare le altre attività che io devo fare perché fanno parte del mio lavoro e il mio back office eh i miei Excel quello che è di fatto il mio sviluppo se sono sviluppatore e aumento sempre secondo questo studio di quarantotto minuti la mia giornata di lavoro quindi io lavoro otto ore di fatto ne sto lavorando nuove mi rimane sempre meno tempo il rischio e il burnout questo è quello che può succedere questo è quello che in alcune aziende si è visto il successo. La self motivation è un altro dei pilastri del well being quindi andare a motivare le persone in maniera diversa però creando un ambiente di lavoro dove i dipendenti siano in grado di motivarsi da sé quindi non sono io che vado a dare la spinta motivatrice ma creo le condizioni affinché le persone siano motivate da sé a dare il massimo. Quindi quello che andiamo a fare è seminare e quindi un po' ve l'ho messo lì tra virgolette in maniera scherzosa lo spirito del giardiniere e non quello del medico che cura che dà la motivazione come se fosse una medicina. Noi seminiamo un ambiente sano e quindi abbiamo di conseguenza delle persone motivate. Questo secondo chiaramente carne non me lo sono inventato io. Un altro pilastro la leadership gentile, la kind leadership che ha il merito se vogliamo di creare una connessione sociale, di rafforzare le reti della fiducia, alimentare un clima di sicurezza psicologica che è fondamentale perché consente di aprirsi, di esternare i propri dubbi e le proprie paure, di esplicitare il proprio disaccordo senza avere delle ripercussioni poi di fatto e diventa quindi pilastro anche della cultura aziendale, la gentilezza, trovare un riscontro nel concetto di rispetto per le persone. Ora qual è il problema della leadership gentile che poi è fatta anche di forza, di sensibilità che deve essere autentica? Quindi io non posso fingere di essere o di avere in azienda, ancora peggio, dei leader gentili perché nel momento in cui io applico buona educazione, l'atteggiamento di circostanza, questo viene percepito come falso e quindi non crea quel clima di fiducia, di social connection, di sicurezza psicologica che invece io voglio andare a creare. Deve essere instillato di fatto il rispetto per le persone, quindi uno dei valori fondamentali e fondanti e che quindi debba essere poi applicato su tutti i vertici dell'azienda, non banale. Antonio mi scrive è molto giusto sottolineare l'autenticità, motivo per cui i cambiamenti devono cominciare dentro i singoli. Sono assolutamente d'accordo con te Antonio perché poi il punto di fatto è questo, se è forzato le persone lo capiscono e vi ripeto, creiamo, rischiamo di creare l'effetto opposto dove anziché la fiducia alimenta un clima di sfiducia da parte delle persone. Se io ho un manager che gestisce il suo team, alle sue persone e nelle risposte non è davvero empatico, perché poi di questo parliamo, parliamo di empatia, parliamo di saper rassicurare le persone. Se questo non succede, l'output può essere solo che è negativo. Non abbiamo altre soluzioni. Tema dell'expanded communication. Se pensiamo a pre-covid, pre-pandemia, tutte le nostre relazioni erano vis-à-vis, erano dirette. eravamo in ufficio, ci parlavamo, io mi alzavo, andavo a parlare con il mio CEO, con le persone di riferimento. Adesso, immersi in un mondo molto più digitale, dobbiamo pensare però a un mondo più a misura d'uomo, nonostante nel digitale. Rimane, dal mio punto di vista, la vera ancora sociale, il posto dove andare a generare poi delle conversazioni che siano produttive, siano esse formali e informali, l'ufficio. Quindi, un giusto compromesso fra la flessibilità che vedevamo prima, la possibilità di organizzarsi, la propria vita privata, il lavorare da casa. Non può prescindere però dal vedersi in ufficio, dal trovarci alla macchinetta del bar. Pensate a, io penso spesso ai ragazzi magari che mi sono da noi in stage, quindi parliamo di ragazzi tra i 19 e i 24, 25 anni. Eh fortunatamente, rispetto alla politica di smart working adottata, qualcuno c'è sempre in ufficio. Chiaramente il mentor della persona viene in ufficio, si accordano e vengono in ufficio, però non vede mai l'ufficio con le 70 persone. Quante siamo? come fa un ragazzo? Quindi parliamo di generazione Z. Come fa un ragazzo che ha tutta una particolarità di necessità creare dei legami? Antonio scrive, il bar non è per i tali tempo, ma un tassello fondamentale per facilitare relazioni e le comunicazioni interne. E devo dire, sono nuovamente d'accordo con Antonio? Perché spesso e volentieri, vi dico la mia esperienza, è stato proprio alla macchinetta del caffè o al bar, magari mi hanno parlato di cose che non andavano bene, di problematiche. Perché l'andare al bar, oltre a far sì che si diventi subito meno formali come ambiente, fa sì che le persone riescano poi anche a liberarsi, tra virgolette. Quindi, se è vero che io sono un research manager, davanti alla macchinetta del caffè siamo due persone che stanno facendo la pausa, che stanno prendendo il caffè, che stanno scherzando. Per chi fuma, anche la posa sigaretta è un grande momento di condivisione, per esempio. C'è la battuta, c'è lo scherzo, c'è il cos'hai fatto il fine settimana scorso. E attenzione, questo si può fare anche durante la call di allineamento, durante la riunione, ma perde poi anche di tutto quello che è il non verbale. Quindi, nella comunicazione, soprattutto se io mi trovo ad affrontare un problema di cui voglio parlare, magari mi sento più a mio agio vedendo anche la persona a cui la sto raccontando, come reagisce. Quindi, sì, tutto bellissimo, è giusto ripensare spazi e modi, ma non dimentichiamoci quanto è importante la relazione vis-à-vis, la relazione di persona. Anche perché il lavoro da remoto va detto totalmente da remoto, perlomeno, ha degli svantaggi che si sono visti. La solitudine, la parità del senso di appartenenza, lo stress da connessione, la difficoltà nell'auto-organizzarsi, ed è un qualcosa che io onestamente ho visto anche nella mia realtà. Quindi, tutto bello, ma con misura, come in tutte le cose. Carolina mi scrive, cosa consiglieresti nel caso in cui ci sia un responsabile che porta con sé una scia negativa? Banalmente, se ad esempio ritenessero che la macchinetta del caffè sia un momento che crea un aumento di confronto, che genera un aumento di insoddisfazione. Ok. Allora, intanto parliamo di un unico responsabile che la pensa così. Avrei bisogno, Carolina, di avere più elementi per capire un po' il contesto aziendale. perché se solo uno dei responsabili ti ha questo tipo di pensiero, mentre tutto il resto del management, C-Level, hanno un altro pensiero, la cosa più semplice che ti consiglierei, Carolina, è di lavorare su questa singola persona. Diverso, invece, è se abbiamo ad alto livello, quindi C-Level e manager, tutti la stessa idea. Mi interessa anche, per come mi è scritto, momento di confronto che genera insoddisfazione. Nel momento in cui c'è questo confronto, di che cosa si parla? Nel senso, stiamo parlando delle nostre ralle, quindi, come dicevamo all'inizio, non c'è una meritocrazia? C'è qualcosa di non chiaro? Perché in realtà potremmo anche prendere spunto da questi confronti e questa insoddisfazione che però deve arrivarci, cioè deve uscire, per poter risolvere l'insoddisfazione. Non so se mi sono spiegata bene, quello che voglio dire è, se io non ho idea del motivo per cui le mie persone sono insoddisfatte, non posso neanche capire cosa mettere a terra per risolvere questa insoddisfazione. Se invece questo momento di confronto, anche la macchinetta del caffè, e va benissimo, ha delle radici, ha delle spiegazioni, non so come dire, allora a quel punto risolviamo e risolviamo e pensiamo a una strategia. Daniela, Carolina, scusami, non so se è possibile, Daniela dalla regia, possiamo magari rispondere a Carolina? Oppure Carolina, ti dico un'altra cosa, scrivimi su LinkedIn in privato, questo è un invito che faccio a tutti, se vi va poi di continuare l'argomento, e ne parliamo insieme, ne approfondiamo, ecco, con piacere l'argomento o i casi particolari, se vi va. Il concetto di community è fondamentale, nel senso, le comunità rafforzano il senso di appartenenza e la collaborazione e quindi poi vanno a incidere sul benessere e sulla performance, quindi di conseguenza anche sul business. Di fatto, se ieri il sentimento di azienda come comunità era affievolito, quindi sentirsi parte di questo che viviamo, è il momento di andare a rinvigorirlo, dando invece spazio agli scambi di vissuti e di idee che appunto, come dicevamo, solo le conversazioni vis-à-vis consentono di realizzare pienamente anche davanti alla macchinetta del caffè. Re-Mindset, ve l'avevo anticipato qualche minuto fa. Cambiare completamente il nostro modo di pensare, si è sempre fatto così, è la morte, è la morte delle aziende. Io non so se vi è mai capitato, io fortunatamente sono in azienda dove la mia funzione ha un ruolo, mi hanno cercata, io ve lo dico candidamente, quando ho fatto il colloquio con loro, gli ho detto, se cercate una persona che occupa una casella, non sono io, perché do fastidio, devo dire le cose che non vanno, dobbiamo migliorare le cose, devo fare cose, altrimenti non sto bene nel posto di lavoro. Se avessi trovato dall'altra parte qualcuno che alle mie idee mi rispondesse, qui si è sempre fatto così, ragazzi io sarei scappata, cioè è l'inizio della fine. Quindi quando vi parlo di mindset, anche rispondendo a Carolina, se noi abbiamo questa persona che la pensa in un determinato modo, che però è isolata, è su quella persona che dobbiamo lavorare per far sì che apri, apra la sua mente, la prepari soprattutto, e questo dobbiamo aiutarlo noi a farlo, non è semplice, puoi dire fare c'è di mezzo il male, vi dico, sembra tutto bellissimo, ma anche io ho delle situazioni del genere, fortunatamente non con tutti i nostri head, però ho degli head che hanno delle idee, per esempio sono contro lo smart working, ogni tanto mi dicono, ah vedi dovremmo venire tutti i giorni in ufficio, tutti quanti, no, non funziona così, piuttosto quello che io gli rispondo è, ingaggia le tue risorse, cioè dai un motivo alle tue risorse per venire quella volta in più, se li tieni che ti abbia senso, quindi è un remindset, un modo di preparare la mente, aprirsi alle nuove possibilità, sperimentare anche delle nuove chiavi di lettura, in modo tale che la nostra visione, sia di noi stessi che degli altri del mondo, sia ampliata e rinvigorita. Su questo io vi invito sempre a informarvi, a, in realtà vi dico anche, confrontarvi con chi sapete che sicuramente la pensa diversamente da voi, perché lì anche quando la posizione è molto distante, vi assicuro che qualcosa ve la portate a casa. Fosse anche solo il, ok, sono convintissima delle mie idee, però vi fa bene, vi fa bene. Altro pilastro, diversity inclusion, quindi quel tipo di strategia di gestione che attraverso le politiche di inclusione, rispetto e valorizzazione delle differenze, qui siamo nell'ambito del sesso, dell'etnia, dell'età, dell'orientamento sessuale, disabilità, quindi tutto quello che è il mondo che ci troviamo a vivere, e attraverso queste pratiche, che considerano quindi la diversità una forza per le proprie realtà, si va a lavorare poi su una leadership che aumenta il benessere e migliora le performance. Nell'ambito delle politiche di diversity e inclusion, c'è anche il tema dell'age management, ovvero la diversità generazionale. E' in questo momento uno dei temi più avvertiti nelle nostre aziende e ad oggi ci troviamo poi a gestire persone diverse per fascia d'età, per mentalità, per linguaggio, valori, che a volte sono anche comuni, pensiamo al valore del rispetto, ma che vengono talvolta interpretati e vissuti in maniera completamente diversa. Vi faccio un esempio stupido. In azienda da noi abbiamo una ragazza che è allergica e starnutisce in maniera molto dirompente. Abbiamo altre persone con età, siamo fra i 50 e i 60 anni, che si lamentano perché questa ragazza starnutisce in quel modo. Ora, io dal mio punto di vista non la vedo una mancanza di rispetto. Starnutisce così, potrebbe fare più piano, mi direte voi, sì, però è il suo modo di starnutire in qualche modo. Come si risolve? Perché per una persona di un'età diversa, questa è una mancanza di rispetto, la ragazza neanche si pone il problema che sia una mancanza di rispetto. Quindi è sicuramente questo un problema che in tanti ci troviamo a risolvere e vi ho fatto un esempio stupido. Una delle soluzioni al problema della differenza generazionale in azienda, una risposta può essere il mentoring. Quindi andare ad attivare dei progetti di mentoring in modo tale da gestire queste diversità generazionali. Antonio, dall'ergico che sono, le chiederai se hai mai fatto una visita allergologica. Ma guarda, Antonio, va anche bene, nel senso che se ho un ambiente disteso, sereno, anche con la battuta, ma hai mai fatto una visita allergologica, magari lo stiamo passando un messaggio. Però ti dipende sempre dall'environment, dall'ambiente che io ho creato in azienda. Se ci si può permettere questo tipo di, metto tra virgolette, confidenza. Il mentor, ritornando al mentoring, è quella persona con più esperienza e che quindi può dare effettivamente poi indicazioni, condividere quelli che sono i significati, mettere il proprio vissuto a disposizione insieme alle conoscenze. Anche banalmente delle dinamiche aziendali. Ritorno all'esempio dello stagista. Se esce da scuola, non sa neanche come impostare una mail. Partiamo proprio dalle basi. Probabilmente non saprà se si può alzare per andare in bagno. Non so, ripenso alla me stagista e dico, ok, io quello che facevo era osservare gli altri. Per esempio, perché quando ho iniziato a lavorare io, più di dieci anni fa, non c'era non-boarding. Quindi il mio metodo per sopravvivere all'inizio era, guardo cosa fanno gli altri. E vedo, in base a quello che fanno loro, faccio anche io. Se sono le 18.30 e ancora non si alzano dalla scrivania, ok, forse è il caso che non mi alzo alle 18, mica della penna e me ne vado. Quindi anche banalmente su quelle che sono le dinamiche aziendali, il mentor può essere una figura di riferimento e che può aiutare poi a sviluppare le capacità del mentee. Questo cosa fa? Fa sì che il mentor, quindi la persona con più esperienza, trasmetta tutta quella che è la sua conoscenza, il suo know-how. Dall'altra parte il mentee, che comunque è fresco e non ha sovrastrutture, perché lavora per la prima volta, vada ad arricchire poi entrambe le parti e quindi offrire poi dei nuovi innesti generazionali che vanno a rivitalizzare quelle che sono le radici dell'azienda da questo punto di vista. Il career well-being. Le aziende tendono a sottovalutare la serenità che deriva dall'avere una strada, un percorso di carriera che sia delineato davanti a sé. Nel momento in cui l'azienda si fa carico del career well-being, il risultato che ne deriva è che ad ogni dipendente piace maggiormente quello che fa tutti i giorni al lavoro, ma anche perché gli è chiaro perché lo fa. In Italia, ritorno allo studio 2022 su well-being, solo il 21,3% delle aziende mette a disposizione piani di carriera chiari e condivisi. Il 17,8% invece offre anche il career coaching, vi ho messo qui tutte le percentuali, mentre il 36,8% delle aziende utilizza sistemi trasparenti di valutazione della performance. Ora, noi per esempio come azienda inodata abbiamo da due anni inserito la valutazione della performance, sono legati gli obiettivi, stiamo pensando perché ancora non abbiamo dei career path, però è un qualcosa sulla quale sto mettendo la testa perché anche dal mio punto di vista può fare la differenza per dare quella sicurezza psicologica. Il social well-being invece si va ad inserire nell'ambito dei conflitti. Poche sono le aziende ad oggi che si assumono la responsabilità di creare un ambiente di lavoro sereno, dove appunto far crescere quei rapporti veri anche davanti alla macchinetta del caffè, e il social well-being prevede che le risorse invece sviluppino questi rapporti interpersonali che siano significativi con i colleghi che attenzione non vuol dire diventiamo amici, che però vuol dire mi posso fidare di te, so che sei una persona disponibile, se ho bisogno di una mano me la dai, lavorativamente parlando. Il 42,2% delle aziende fa formazione sul feedback, la restituzione del feedback è fondamentale per la creazione del benessere in azienda, solo l'11,2% la fa sul conflict management ed è un qualcosa che sta prendendo sempre più piede, mentre il 51,2% delle aziende cerca di costruire dei momenti di interazioni informali, che possono essere anche attività di team building, aperitivi post lavoro, attività che non abbiano necessariamente a che fare con il lavoro. Il financial well-being è un qualcosa dove pochissime aziende in realtà ad oggi mettono la testa, noi non la mettiamo per esempio, almeno non ancora. Parliamo della formazione e supporto in ambito finanziario, quindi quando le risorse hanno i mezzi per gestire al meglio le loro finanze, il che riduce lo stress e aumenta la loro sensazione di sicurezza e di benessere. Quindi non parliamo solo dei premi aziendali, quindi dei bonus che vengono effettivamente assegnati in maniera trasparente o benefit aziendali dati ascoltando le esigenze delle persone, non parliamo solo degli stipendi che sono in linea con il mercato, ma anche proprio formazione e o supporto per quanto riguarda tutta la casistica dei mutui, delle pensioni, delle assicurazioni sanitarie, che è un ginepraio di informazioni sulle quali non tanti hanno questo tipo di informazione. Io lo vedo banalmente anche sulla busta paga. Abbiamo creato una parte per esempio dell'intranet dove viene spiegato come leggere la busta paga, nonostante ho persone che nella mia azienda ci sono da 15 anni e che ancora ad oggi fanno le stesse domande ogni mese all'amministrazione. Questo per farvi un esempio su quanta poca educazione c'è su questi temi. Antonio mi scrive Conflict Management, ok ma sarebbe meglio concentrarsi su tutto ciò che fa sì che ai conflitti non si arrivi. Non sono delle banalità Antonio, anche se mi scrivi delle banalità e lo sai. In realtà non sono delle banalità e è ovvio che l'optimum sarebbe evitare di arrivare al conflitto. Però nel momento in cui io mi rendo conto che il conflitto c'è, ripenso magari a quello che diceva Carolina rispetto al suo manager, mi devo anche far carico della cosa e cercare di risolverlo. E lì ormai il conflitto ce l'ho, quindi lì vado sul conflict management. Non posso fare diversamente, però sono assolutamente d'accordo con te. Se riusciamo a applicare delle strategie tali per cui riesco ad evitare di arrivare al conflitto, stiamo facendo un ottimo lavoro ragazzi, ma ben venga. Quindi questo per quanto riguarda il well-being, il financial well-being, concentriamoci anche o pensiamo di dare come opportunità quella di dare gli strumenti, quindi non solo la parte economica, ma anche gli strumenti per poter gestire le finanze al meglio delle nostre persone. Community well-being, quando le risorse vivono in un luogo sicuro a cui donano parte del loro tempo e delle loro competenze. Quindi parliamo di get back. Community non è la community aziendale, la community è la community più estesa, parliamo di attività di alternanza scuola-lavoro, quindi parliamo proprio della comunità che ci circonda nella città nella quale noi siamo, open day e attività di orientamento degli studenti, attività di volontariato organizzate dall'azienda sul territorio dell'azienda, piuttosto che tempo lavorativo che la nostra persona, le nostre persone dedicano per il volontariato che fanno indipendentemente dall'azienda. Noi dall'anno scorso, per esempio, siamo diventati società benefit nel 2021, dall'anno scorso organizziamo, almeno una volta all'anno, delle attività di volontariato aziendale. L'anno scorso, per esempio, l'abbiamo fatto con Rise Against Hunger, abbiamo donato a Casa della Carità, che è su Milano, avendo noi sede su Milano, in zona Turro, è stata una bella attività perché l'abbiamo legata al team building. Quindi avevamo dei kit da confezionare di viveri nel minor tempo possibile, due squadre si sono sfidate in maniera giocosa, chiaramente, e in realtà abbiamo avuto molta risposta positiva. Molta risposta positiva. Questa è un'attività che se avete la possibilità, se il work for management vi dà la possibilità, è davvero un qualcosa che arricchisce tantissimo le persone e noi che le organizziamo. Andiamo verso la conclusione che sono in ritardo, sono una chiacchierata, una chiacchierata come avrete visto. Cosa dobbiamo fare, quindi, come Risorse Char? Diventare dei change manager, quindi riuscire ad ascoltare le nostre persone con focus group, training, interviste anche anonime, vi suggerisco, come abbiamo fatto noi, per esempio, in modo tale da capire cosa le persone pensano e poi riuscire anche a cambiare quella che è la mentalità poi dei nostri dei nostri manager. Grazie Paola, grazie mille a te, grazie mille a Irene, che si deve staccare insieme a Paola. Grazie mille. e noi appunto abbiamo fatto questo tipo di survey con Surbio, si chiama il tool, che permette di fare delle indagini anonime. Grazie Gaia, buona giornata. vi devo dire, abbiamo fatto poi una plenaria su quali che sono stati risultati di questi indicatori poi di benessere e malessere aziendale che abbiamo indagato. questi sono alcuni esempi. Alcune domande che abbiamo fatto. Quanto spesso durante la settimana hai troppo lavoro o sei stressato? Considerate che su 65% della popolazione che era a dicembre 2022 hanno risposto 59 persone con un tasso di risposta del 90,76%. Quindi su queste persone 41 hanno risposto che qualche volta sono stressate. Stiamo lavorando, ci sta. 9 persone spesso, 7 non molto spesso, una mai. Anonima, quindi non ho idea di chi abbia risposto mai, però buon per lui o buon per lei. Altri esempi di domande che abbiamo fatto per andare a fare questa fotografia del nostro benessere organizzativo. Trovi che il tuo lavoro sia riconosciuto dal tuo team come importante, piuttosto importante, non veramente importante, assolutamente non importante. Sei soddisfatto del tuo lavoro? Questi sono tutti indicatori, vi ripeto, di benessere o malessere e ve li ho rimessi qui sulle quali anche voi potete eventualmente fare per iniziare a implementare una strategia, a capire qual è la situazione dalla quale partite. Io questo è quello che vi consiglio. Capite in che situazione siete per poter poi andare a capire la strada che fa per voi. Se avessimo avuto tempo mi sarebbe piaciuto molto più confronto, infatti avevo preparato delle domande per sentire anche cosa ne pensavate. Noi abbiamo di fatto terminato il tempo, quindi intanto vi ringrazio per l'attenzione e vi lascio qui i miei contatti. Daniela, il tool si chiama Survio, vi dico è a pagamento ma si può interrompere perché ad abbonamento mensile costa se non erro sui 23 euro, quindi comunque è una spesa abbastanza abbastanza moriverata. Anche io quando ho chiesto al mio management per 23 euro mi hanno detto sì guarda, non dovevi neanche chiederla questa te la facciamo passare, quindi mi sembra che per fare questa prima fotografia la spesa valga poi l'impresa come si suol dire e vi dirò quando abbiamo fatto la plenaria c'è stato molto interesse e quindi lì anche un tasso molto alto di partecipazione e hanno dato i dipendenti stessi delle idee in base ai risultati e soprattutto mi hanno chiesto per esempio di farlo ogni sei mesi e di ricondividere i risultati in modo tale che tutti insieme ci rendiamo conto di qual è lo stato di benessere dell'azienda, di come stiamo andando, di come anche le azioni che io porto in azienda le strategie che metto a terra effettivamente poi riescano o meno a rispondere alle loro esigenze. Io spero che insomma vi sia stato d'aiuto anche partire da quelli che sono i concetti base e le varie strategie di cui abbiamo parlato per qualsiasi cosa resta a vostra disposizione via mail o valentina.simonetti che c'è data.com o se preferite su LinkedIn valentina.simonetti io vi ringrazio e vi auguro un buon proseguimento di giornata e un buon lavoro.